Bravo sei, in silenzio radio. Mi raccomando iscrivetevi tutti quanti per non perdere il video informativo giornaliero, oggi è veramente molto importante perché finalmente vi darò una risposta a mio avviso definitiva sul FOV perché me l'avete chiesto in tantissimi, vi riporto tutti i dettagli in mio possesso, vi faccio un recap completo perché attualmente il FOV non arriva e sembrerebbe che attualmente non arriverà. In descrizione tutti i miei social e i vari codici sconto e in controller se volete regalare un controller personalizzato con il mio codice sconto risparmierete oltre 40€ e poi in eba.com se dovete comprare giochi nuovi, giochi del passato, le PSN card sono a prezzi veramente scontatissimi anche quelle per Xbox quindi approfittatene con il mio codice sconto avete un 3% aggiuntivo. Ma ora partiamo e andiamo subito nel vivo del video perché la Sledgehammer Games ha risolto due fix e quindi ha fixato due problemi molto importanti che c'erano sulle armi, la sfida dei colpi alla distanza con il Panzerfaust ora sono state corrette quindi ora vengono conteggiate correttamente e vi ricordate vi avevo riportato con la patch 1.09 che era stata anche cambiata la sfida del Panzerfaust adesso praticamente c'è la sfida dei colpi alla lunga distanza. Mentre i colpi traccianti nel pacchetto Traser Bluetrander a quanto pare sono stati corretti anche se mi continuano ad arrivare un sacco di segnalazioni a riguardo. La Sledgehammer Games inoltre ha disattivato la possibilità di trovarsi Krampus quindi questa creatura mitologica natalizia e gli elfi nelle partite private personalizzate perché in molti si sono lamentati appunto della presenza di questi personaggi nelle private. Raven Software invece ha indagato e sta indagando sul nuovo problema che si presenta con i bundle del negozio ha dichiarato stiamo indagando su un problema che impedisce all'applicazione dello sconto sulle offerte festive quando si regala un bundle dal negozio ad un altro giocatore. Mentre per tutto quello che mi state chiedendo mi state bombardando ragazzi nei commenti su youtube e su instagram che vi ricordo ragazzi li leggo sempre mi raccomando su instagram iscrivetevi e mandatemi più messaggi privati possibili perché li leggo tutti quanti. Al momento su tutti i vari problemi che mi state segnalando nessuna notizia né sull'errore gold flick né sull'errore delle texture né sul problema del mancato accesso su xbox nessuna risoluzione al momento del problema delle texture su diverse piattaforme del calo dei framerate sui lag il problema appunto dei cubi che le armi si tramutano in qualcosa di mostruoso. Su tutto questo ragazzi ancora non c'è una notizia una correzione alcune di queste come vi ho detto ve lo riportate nei video precedenti informati stanno lavorando ma non ho ancora una data di risoluzione di questi problemi. Ieri invece è stato battuto il record mondiale di uccisioni in singolo su calderra è stato battuto da mutex che è riuscito a fare 41 uccisioni complimenti a lui. Mentre ieri mv2o g il note in sede era dichiarato ragazzi che stanno per arrivare le partite classificate su vanguard non è una novità ragazzi che sarebbe arrivata a questa importante modalità all'interno del gioco era stato annunciato dalla stessa treyer che la cosa curiosa qual è che quest'anno il titolo quindi vanguard è un titolo della sledgehammer games il multiplayer l'ha fatto la sledgehammer games la campagna l'ha fatta la sledgehammer games la modalità zombies l'ha fatta treyer e le partite classificate le faranno la treyer che quindi è come dire ragazzi che veramente ci hanno dovuto mettere una pezza in corso perché la cosa è veramente inquietante che una software house se ne fa aiutare da un'altra perché veramente il gioco non era e non è completo cosa incredibile. Vi do una notizia molto importante perché in questi giorni mi state facendo tantissime domande sulla questione vanguard gratuito come sapete dal 16 di dicembre quindi da già diversi giorni come avevo riportato anche la guida fino al 21 di dicembre potete giocare vanguard gratuitamente quindi non avrete appunto bisogno di comprarlo. Poi ovviamente se lo comprate tipo ad esempio da martedì recupererete tutto quello che avete ovviamente sbloccato in questi giorni non perderete i vostri progressi però ovviamente molti mi chiedono amante ma ci vuole il plus amante non ho il plus non posso giocare a vanguard. Bene non so se avete visto qualche video informativo fa ma vi ricordo che già da ieri e compreso tutto oggi fino a mezzanotte potrete giocare tutti ma proprio tutti i giochi di playstation senza il plus. Tra questi ovviamente che ne so l'online di gta 5 l'online di 2k 22 l'online di call of view di vanguard quindi approfittate ragazzi perché sono accessibili gratuitamente su ps4 e ps5 tutti i giochi che avete che ovviamente richiedono il plus per giocare online. Tra questi vanguard quindi approfittate oggi è domenica scaricatevi vanguard dal volo vi è livellato un bel po' di armi anche se non avete il plus perché ovviamente poi warzone non richiede il plus. Ma mettete invece comodi perché vi devo parlare appunto della questione del FOV così riesco a darvi una definizione e una risposta definitiva alla questione. Adesso vi dico tutto quello che è successo in questo anno in questo 2021 con una dichiarazione del 2020 dell'Infinic World così capirete bene perché il FOV non è arrivato e perché sotto un certo punto di vista a mio avviso la Raven ci ha letteralmente preso in giro. Partiamo 25 febbraio 2021 il noto portale Charlie Intelli che è molto affidabile come sapete per quanto riguarda le notizie certe ufficiali su call of duty ha dichiarato ad Activision che sono informati che il FOV su warzone versione console non verrà introdotto a causa di gravi problemi di performance dei quali il gioco soffrirebbe a causa delle dimensioni della mappa e del numero dei giocatori in partita. Il 22 aprile 2021 la Raven Software ha confermato che una parte dello studio sarebbe al lavoro su una versione PS5 Xbox serie X del gioco. Notizia ufficiale ragazzi eh! Inoltre la Software House ha conoscenza della grande richiesta del FOV su console e quindi ha dichiarato che sta cercando di introdurre questa funzione ed era il lontano 22 aprile 2021. Il 31 maggio la Raven ha confermato nuovamente sui social che stava indagando sulla possibilità di aggiungere il FOV. Da precisare però ecco perché vi dicevo anche una notizia del 2020 l'Infield World aveva già detto l'anno scorso che non avevano aggiunto il FOV perché il calo di FPS e di prestazioni sul console era troppo significativo. Questo perché? Perché molto probabilmente l'engine, il motore di gioco del titolo è troppo pesante. Avete visto che quest'anno avevano promesso che avrebbero cambiato l'engine mettendo quello di Vanguard invece poi è rimasto quello di MV. A mio avviso la notizia importante relativamente al FOV l'avremo a mio avviso il prossimo anno quando uscirà il nuovo MV2, il nuovo capitolo dell'Infinity World dove appunto si staccherà Warzone a mio avviso sempre da MV e passerà al nuovo MV2 con un nuovo motore grafico potenziato e lì potremo avere qualche speranza di più. Proprio il gioco è proprio tanto tanto carico di roba ma ragazzi poi è semplice ne abbiamo già detto in live già gira malissimo così non carica le texture, non carica i policoni, scatta, lagga. Pensa se avessimo il FOV ragazzi a quanti FPS andremo? Forse a 20? Boh qualcosa di inquietante. Ted Timmins invece il direttore creativo di Raven aveva confermato diversi giorni fa e parliamo del primo di dicembre di essere pienamente a conoscenza delle richieste dello slider FOV su console ma non ha confermato o meno la sua aggiunta. Ha concluso con quella dichiarazione che mi ha fatto veramente girare come si dice il sederino spero solo che queste patch note lo chiariscano siete ascoltati e noi stiamo ascoltando. Ovviamente poi l'8 di dicembre viene lanciata la mappa Caldera che come sapete in accesso anticipato ai 24 ore per i possessori di Vanguard il FOV non viene trovato nei menu e nelle patch note non c'è stato nessun dettaglio neanche a dire non arriverà arriverà o se arriverà. E il 12 dicembre è arrivata quella dichiarazione di questo gran bel personaggio di Ted Timmins di Raven che ha detto se potesse avere soltanto un giorno libero senza essere perseguitato sul mio account Twitter ogni minuto sulle richieste delle impostazioni FOV lo apprezzerei davvero perché non è sotto il mio controllo. Prima non è sotto il suo controllo poi dice che lo chiariscono le patch note poi dice che lo stanno che ascoltano la community stiamo ascoltando le vostre richieste e poi non rilasciano neanche una dichiarazione a riguardo e non ci mettono come vi dicevo giorni fa la faccia. Quindi ormai ragazzi mettetevi l'anima in pace è ormai chiaro che tutti i giocatori su console vogliono il FOV ma ormai lo sanno tutti lo sa Activision lo sanno i sviluppatori lo sa appunto il direttore creativo Ted Timmins di Raven e quindi a questo punto ragazzi la limitazione è per forza tecnica. Non ci sono altre motivazioni perché già gira male così immaginatevi col FOV introdotto quindi mettiamoci l'anima in pace e aspettiamo il prossimo COD sperando che riescano in questa novità. Questo era tutto quello che volevo dire nuovo video informativo giornaliero sul mondo di Call of Duty lasciate un bel mi piace iscrivetevi per non perdere tutte le ultime notizie sul mondo di Call of Duty noi ci vediamo ovviamente domani ore 7 qui su YouTube con un nuovo TG COD. Grazie a tutti.